Io sono di origine un prete romano, un prete di Roma, che è entrato in seminario nel 1955, quindi tanto tempo fa, ancora prima del concilio, però fin dall'inizio mi sono formato a quella prospettiva propria della Roma cristiana che mentre attenta alla realtà locale vive però immediatamente il suo rapporto con l'universalità a motivo ovviamente della presenza del Papa. In questo senso, facendo gli studi al seminario romano, è parte della mia formazione un rispetto, un'obbedienza e una vicinanza al Papa che derivano appunto da un rapporto quasi fisico di vicinanza e che diventa un rapporto spirituale, un rapporto anche pastorale. Un momento particolarissimo nella mia vita è stato il tempo del concilio che ho vissuto mentre frequentavo l'università e diversi miei professori erano esperti o anche vescovi che partecipavano al concilio Vaticano II. Ad esempio, il segretario generale del concilio Vaticano II, Mons. Felici, era appena uscito come padre spirituale dal seminario romano e Papa Giovanni era ex alunno del seminario romano. Il tempo successivo al concilio è stato per me esaltante. In qualche modo potrei dire che personalmente sono un frutto anche dello spirito del concilio Vaticano II che poi in qualche modo ho realizzato assieme alla comunità di Sant'Egidio che nasceva proprio nell'imminenza del concilio e di cui io sono uno dei membri, sono stato il primo sacerdote di questa comunità. E che cosa ha significato tutto questo? Ha significato il primato della parola di Dio, il primato della santa liturgia, dell'eucaristia, il primato del legame con la sede di Pietro e il legame con i poveri. La Chiesa di Roma, come dicevano gli antichi padri, presiede la carità. Ecco, questo è stato il mio percorso nei primi anni della mia formazione, poi nel ministero presbiterale. L'incontro con Giovanni Paolo II è stato per me un incontro molto importante, non solo perché mi ha nominato parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere, avevo appena 35 anni, ma ci ha come coinvolto, assieme alla comunità di Sant'Egidio, in una dimensione missionaria, missionaria dentro la città e missionaria nel mondo. Pensiamo ad esempio a che cosa hanno significato per il mondo le giornate mondiali per la gioventù. Ecco, sono nate in quel rapporto iniziale di San Giovanni Paolo II con i movimenti giovanili di Roma, tra cui appunto la comunità di Sant'Egidio. Nello stesso tempo è continuata la mia formazione culturale, legata anzitutto allo sviluppo teologico della dottrina, in rapporto al concilio Vaticano II, in più una mia specializzazione in storia dei laici nella vita della Chiesa e una laurea anche in pedagogia per i grandi cambiamenti che avvenivano in quel tempo. Tutto questo poi è sfociato nel 2000 con la nomina a Vescovo a Terni, una città tra Roma e Assisi, una città industriale, aveva una delle più grandi acciaierie del nostro paese, dove mi sono imbattuto con i problemi del mondo operaio, con i problemi dell'industria, finché dopo 12 anni di impegno nella città di Terni, tra l'altro è la sede del corpo di San Valentino, ecco San Valentino è stato il primo Vescovo di Terni e per me è stato importante poter sottolineare questo evento del 14 febbraio comunemente ecclesiale, e cioè di fermare l'attenzione sul senso dell'amore rispetto ad un romanticismo un po' vuoto e un po' vacuo. Dopo 12 anni Papa Benedetto mi chiama a dirigere l'allora di Pontificio Consiglio per la Famiglia. Tra l'altro il Papa era ben convinto che le nuove prospettive antropologiche e teologiche trovavano in questo ambito della famiglia una delle frontiere più delicate, come poi è avvenuto effettivamente con Papa Francesco, il quale nel momento della riforma della curia romana nel riunire diversi di Casteri ha scelto un vescovo americano per la guida del nuovo di Castero, laici, famiglia e vita e a me ha voluto affidare la dimensione diciamo teoretica, teologico-culturale di questa dimensione affidandomi appunto la presidenza della Pontificia Accademia per la Vita e il gran cancellierato del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze sul matrimonio e sulla famiglia. Di qui in qualche modo ho continuato l'impegno di Papa Benedetto ma spingendolo in maniera ancora più decisa nel suo orizzonte culturale. In questo senso queste due istituzioni ossia l'Accademia per la Vita e l'Istituto Giovanni Paolo II sono ancora oggi le mie due responsabilità e ambedue queste istituzioni sono state come dire in qualche modo rifondate per rispondere agli enormi problemi, alle affascinanti e tremende frontiere che riguardano appunto la vita, il matrimonio e la famiglia. La Pontificia Accademia per la Vita oggi si presenta come un'istituzione composta da un piccolo nucleo centrale che riguarda l'ufficio con circa 160 scienziati di tutto il mondo di diverse discipline ad esempio discipline mediche, discipline antropologiche, discipline giuridiche, discipline teologiche discipline relative al grande ambito della bioetica e sono membri appartenenti anche a diverse tradizioni religiose a diverse culture, a diversi continenti in modo da avere un gruppo di scienziati che possa in maniera collegata riflettere su questi grandi temi della vita contemporanea. faccio tre brevi esempi che hanno occupato l'attenzione dell'Accademia il primo tre anni fa quando abbiamo iniziato a parlare della bioetica globale e quindi tutti i temi relativi alle nuove tecnologie in rapporto alla nascita, alla morte, allo sviluppo delle diverse età della vita successivamente abbiamo affrontato il nuovo tema fino ad ora completamente fuori l'orizzonte che è quello della roboetica ossia del rapporto tra lo sviluppo della robotica e l'etica che riguarda in maniera diretta il grande tema della vita è quello di quest'anno che è come uno sviluppo del precedente ed è appunto sulla intelligenza artificiale potremmo dire rispetto all'ingresso nel mondo della scienza ma non solo, anche della politica, dell'economia e delle nuove tecnologie gli algoritmi ecco abbiamo coniato un nuovo termine appunto algoritica e a dire che tutto nello sviluppo scientifico deve essere legato anche alla dimensione etica cosa vuol dire? vuol dire che lo sviluppo della scienza e della tecnica deve lasciare al centro la dignità e il valore della persona umana che evangelicamente parlando appunto è una creata da Dio e posta al vertice del creato parlando filosoficamente potremmo dire la prospettiva kantiana che l'uomo, la persona umana è sempre un fine e mai un mezzo in questo senso l'impegno dell'accademia si declina poi in diverse prospettive legate allo sviluppo della tecnologia è chiaro che sia la nascita che la morte hanno nuove dimensioni rispetto al passato come anche il rapporto tra le generazioni ha un'importanza che ridà alla vita un significato non di una dimensione o di un concetto astratto ma della realtà della famiglia umana la vita non è un'astrazione la vita oggi è i 7 miliardi di persone più tutto il complesso della casa comune della creazione quindi in questo senso se potessi sintetizzare la prospettiva dell'Accademia per la vita direi che per un verso è stata sottolineata con l'enciclica laudato si di Papa Francesco tutta la dimensione della creazione l'Accademia della vita tiene presente questa prospettiva e ne sottolinea una prospettiva e ne sottolinea una dimensione cruciale ossia la famiglia umana che abita questa casa comune la famiglia umana che è responsabile anche delle generazioni quindi non solo ovviamente di continuare la generazione dell'umanità ma di conservarla in tutte le età della vita nel migliore dei modi possibili quindi in questo senso l'impegno scientifico dell'Accademia legato ovviamente ad una prospettiva di fede e anche di etica diventa uno degli orizzonti più delicati e più importanti della Pontificia Accademia per la vita quando diciamo che la vita assume una connotazione semantica più larga ovviamente comprende anche tutto questo in passato in fondo la bioetica si determinava attorno a due grandi soggetti prospettive il momento della nascita e il momento della morte con le nuove tecnologie emergenti e convergenti tutti gli ambiti della vita umana ne vengono coinvolti l'intelligenza artificiale è chiaro che pone anche questioni relativi al lavoro questioni relative allo sviluppo della società nel suo quotidiano è ovvio che le nuove tecnologie danno al termine della vita un significato molto più ampio crescono gli anziani crescono le malattie si allunga il tempo della vecchiaia e noi rischiamo come Papa Francesco molte volte ha sottolineato come Papa Francesco molte volte ha sottolineato di promuovere una cultura dello scarto creando una singolare contraddizione allunghiamo la vita da una parte e una volta allungata la scartiamo pensiamo ai grandi istituti per anziani oppure come accade in questo momento della pandemia è ovvio che questa prospettiva che ha mostrato anche i forti limiti della scienza e della tecnica richiede una riflessione e una pensosità più profonda più attenta dove la tecnologia deve essere attenta anche alla dimensione etica la scienza proprio di fronte alla tragedia di questa pandemia e gli scienziati ci avvertono che probabilmente non è l'ultima ha mostrato il suo limite noi come Pontificio Accadema per la Vita sollecitiamo lo sviluppo della scienza ma senza una dimensione umanistica senza una dimensione legata alla dignità dell'uomo rischiamo di far deragliare un nuovo sviluppo che non tiene conto della centralità dell'uomo e della famiglia umana in questo senso la stessa politica siamo convinti nell'Accademia che dovremmo affrontare tutta una prospettiva che in maniera sintetica possiamo chiamare della biopolitica cosa vuol dire? vuol dire che le forze politiche a tutti i livelli di fronte a una nuova condizione dell'umanità globalizzata e debbono come dire essere attente ad evitare soluzioni come dire particolari legate solo a qualche regione a qualche confine legate solo magari a un nord ricco che non tiene conto della grande fascia di paesi poveri o anche all'interno dei paesi poveri i ricchi e i più disgraziati in questo senso è indispensabile ripensare proprio a partire dalla condizione attuale di questa pandemia una riflessione di nuova organizzazione della sanità pubblica e l'Accademia è impegnata anche in questo come è impegnata l'Accademia anche a impedire che prevalga quella che viene chiamata la società della sorveglianza dove i possessori dei data rischiano di essere i padroni assoluti della vita dei cittadini come vede diciamo si moltiplicano i temi ma tutti sono in qualche modo ma tutti devono in qualche modo essere indirizzati alla prospettiva della unità della famiglia umana che abita l'unica casa comune perché sia abitabile degna per questa generazione per la prossima e per quelle che verranno ancora ecco da notare che lo specifico della Pontificia Accademia per la vita è il suo aspetto appunto scientifico l'apporto che possiamo dare agli altri e che stiamo dando agli altri di Castelli della cura romana i quali sono impegnati molto di più sul versante diciamo pastorale organizzativo di rapporto con le diverse chiese locali del mondo l'Accademia offre il suo contributo specialistico di riflessione che ovviamente deve essere in stretto contatto con la dimensione della pastorale e tuttavia è proprio la nuova sfida e io stesso ne ho parlato direttamente con Papa Francesco anche all'interno della cura romana non si tratta semplicemente solo di riorganizzare gli uffici si tratta di dare un nuovo motore a tutta la cura romana perché in maniera più compatta e più coordinata possa aiutare il pianeta intero possa aiutare le società oltre che le chiese cristiane e non solo di questo nostro pianeta a rispondere in maniera la più adeguata possibile alle grandi sfide che abbiamo davanti in questo è iscritto nel nostro DNA dell'Accademia in qualche modo la promozione di una nuova alleanza tra chiesa fede scienza politica ed economia per rispondere in maniera per quanto possibile collegata unitaria a sfide che certamente sono ormai senza più confini senza più barriere e senza più come dire distinzioni piuttosto l'Accademia in che modo fa conoscere le tematiche al centro della sua riflessione ecco faccio un piccolo esempio che ci riguarda proprio in questo tempo di fronte all'esplosione della pandemia giunta all'improvviso inaspettata la stessa tecnica è rimasta come sorpresa e a me ha impressionato che il virus il coronavirus abbia colpito le parti più ricche del mondo le grandi città dove lo sviluppo economico era piuttosto consistente certo poi ci sono state declinazioni diverse laddove magari la democrazia è più problematica o laddove i sovranismi come dire fuggivano per la tangente la Pontificia Accademia ha sentito la responsabilità di offrire una prima lettura di quanto sta accadendo proprio per aiutare tutti a comprendere la fragilità che abbiamo riscoperto che nella tradizione della Chiesa cattolica è antica basti pensare al ricordati che sei polvere del mercoledì delle ceneri non per cadere però in un pessimismo tragico ma per dire che il Dio della il Dio della creazione ha scelto questa polvere e quindi per dare un'energia di positività di riflessione solidaristica quindi in qualche modo a promuovere la lotta contro questo virus per allargare sempre più mi permetta questa affermazione il contagio della solidarietà o della fraternità il nostro testo poche pagine ha il significativo titolo pandemia e fraternità universale è un piccolo servizio un piccolo strumento di riflessione che aiuta a comprendere dove noi ci troviamo e già offre qualche piccola indicazione ad esempio sul campo sanitario io sono rimasto scandalizzato dal numero eccessivo di anziani morti sino ad alcuni che pensano di voler scegliere chi curare o no a seconda dell'età sarebbe davvero una grande tragedia ecco nel testo che abbiamo dato alle stampe che il Santo Padre ha ricevuto nelle sue mani e ci ha esortato a diffonderlo si offrono già alcune indicazioni mentre collaboriamo con gli altri dicasteri in particolare con il dicastero dello sviluppo integrale perché si possono produrre strumenti ancora più completi che aiutano il mondo intero a riflettere e a trovare prospettive fin da ora per il presente e soprattutto per il dopo coronavirus ho tantissimi amici credenti e non credenti negli Stati Uniti d'America conosco bene il ruolo che svolgono nell'intero pianeta io vorrei esultarli per quel che posso sono veramente nulla ma per quel che posso vorrei esultarli a tenere alta la leadership della libertà della fraternità dell'uguaglianza e della dimensione del mistero che ci rende tutti fratelli e sorelle non come padroni ma appunto di fronte al mistero della vita al mistero stesso di Dio il Signore ha dato assieme alle capacità degli uomini e delle donne degli Stati Uniti di creare un grande paese io direi è un grande paese con una grande responsabilità con una grande tradizione che deve essere messa al servizio dell'intera famiglia umana buon lavoro a tutti un'intera famiglia che ci rende un'intera famiglia un'intera famiglia che ci rende che ci rende un'intera famiglia